Bella ragazze e ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, supporto a un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione! Inoltre ragazzi, con tanta felicità vi volevo annunciare che a gennaio ci sarà l'annuncio del team europeo alla quale sono entrata. Quindi ragazzi fidatevi, preparatevi che ne vedrete davvero delle belle. Quale è la centrale? Non ci sta. Due pistole a grigio. Vabbè dai fatti? Uno sì. Troppo dello shield. Ripete? Sta salendo uno. Ha un tacco. Ok. Guarda dove arriva? Questa è una bella domanda. Cioè ma che palle va però. Quello pusha con la pistola. Questa è una bella domanda. Guarda dove. Beh, indolo. Cioè ma che palla. Cioè ma che palla. Cioè ma che palla. Il giusto è un tacco. Cioè ma che palla. Cioè ma che palla. Cioè ma che palla. Dio detamo. Cioè ma che palla. Cioè ma che palla. Di giusto. Grazie. Oh, che cazzo mi spari in continuazione, porca demonio. Oh, che cazzo. 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 ooo Povero da questo denomiso Povero da questo? Poi provare a piccare il volto visto che ce l'hai più accanto Povero da questo? 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 Povero da questo?